Buona Sto riprendendo Non pensare Sì 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 Autorizzate lo scelto Ok Vai Braccia è chiusa per la partenza quando volete avvicinare Vai Mi mette accesa? Sì Buon volo Sì No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dicevo di riprendermi, che non mi hai ripreso. Sì che te l'ho ripreso. Ma devo riprendermi anche il panorama, no? Ah, sì. Va bene. Grazie. Tutto bene? Tutto ok.